Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fantasy e nella rubrica Fumetti. Continuiamo a parlare di Calia, oggi parliamo del numero 16, il grande concilio Gialdest. Sigla! Calia, l'era dei fondamenti, numero 16, il grande concilio Gialdest, di Leonardo Cantone, Luca Lamberti, con i disegni di Castelluccio, disegni che ho apprezzato particolarmente, come sempre i retini, scusate, la griglia è sempre di Luca Lamberti, però ho apprezzato particolarmente il taglio del disegno e tranne una cosa, cioè a un certo punto io non ho riconosciuto Aridan, un po' errore mio, ero un po' in ombra, però diciamo se non ci fosse stato il naso non avrei subito riconosciuto Aridan. Ma bando alle ciance, invece quello che ho apprezzato particolarmente sono stati le doppie splash page, che sono state molto molto belle da vedere, invece per quanto riguarda la storia ho apprezzato tantissimo vedere Calia, che finalmente ci fa vedere un po' di risultati dei suoi addestramenti con il popolo Gialdest. Ora, finalmente qua viene esplicitato, o quantomeno viene ripetuto, io non me lo ricordavo, quanto tempo è passato da quando Calia e la sua compagnia si sono separati, sono passati ben due anni, come ci tiene a ricordarci Tag, quando finalmente i due si rincontrano. Sono passati ben due anni e Calia finalmente si riunisce in quella che spero possa essere una riunione definitiva con Tag e Lena. Il nostro Aragorn de turno, che è poi Aridan, invece è impegnato a proteggere la fortezza della, diciamo di Galdor, da parte degli attacchi di Aldelisia, se non, scusate se ho pronunciato male, tra appunto battaglie tipiche del mondo fantasy, tra archi, frecce, spade, scale e anche la magia, o in questo caso, dato che è un po' la firma di questa serie, l'alchimia, quindi ci sono le bombe alchemiche, ci sono delle rune che creano uno scudo protettivo, tutto molto 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 figo. Ci sono due trame, come ci ha insegnato anche il fantasy stesso, vedere appunto Frodo e Sam andare verso il Monte Fato, mentre Aragorn e Compagnia Bella combattevano orchi vari. Qua appunto ci sono due trame, c'è la seconda trama, è appunto il Grande Concilio Gialdest, dove Kallia e i suoi nuovi mentori scoprono appunto che tutti gli altri Gialdest, a parte il Cenobio di Daken, che è appunto il Gialdest che è morto, che si è sacrificato per far sì che Malkuth rinascesse appunto in Kallia, tutti gli altri Gialdest che sono appunto segregati in questa porzione di Theia che è Aldelisia, sono ancora fedeli ad Amondarn, che è il vecchio despota, che è stato deposto da Galdor, che poi ha istituito il regno di Galdor, 500 anni prima, se non sbaglio, o 200 anni prima, non so se ha regnato tra i 500 e i 200 anni prima, comunque è stato deposto. E è tuttora in vita, grazie a qualche strano archibugio che onestamente è stato un po' spiegato da Ilion con una supercazzola, non l'ho capito molto bene, mi interessa poco perché dice solo bugie quel personaggio, quindi francamente non mi sono scervellato molto a capire qualcosa che potrebbe non essere la verità, me la faccio andare bene per buona in questo numero e spero poi più avanti, se riprenderanno l'argomento bene, se sarà stata una frottola lo scopriremo, altrimenti sti cazzi va bene così, comunque diciamo con una, con questa supercazzola, l'esile alchimista ha un po' spiegato perché Amon Darnell è ancora vivo, l'importante per me è sapere che è vivo e che tornerà a rompere le balle ai popoli liberi di Theia, e poi ha fatto un, appunto in questo grande concilio, ha fatto quello che fondamentalmente è uno spiegone, ma ragazzi quanto cacchio mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, non lo so tutti i Gialdes che lo ascoltavano, lui che ha spiegato come un villain di James Bond tutto il suo piano e ci ha davvero dipanato bene la situazione perché su questo chiaramente non può aver mentito, o quantomeno ci ha spiegato quello che davvero vuole fare, poi sicuramente sta usando i Gialdes per i suoi scopi personali sicuramente perché si sa, si vede che è un egoista che mira a delle proprie conquiste, però comunque ci ha spiegato bene tutto il piano perché si è tagliato le corna, perché è andato in incognito fin dal primo numero di Kalia per recuperare il frammento del caduto, fin da subito lui lo voleva per ricreare totalmente il corpo martoriato di Amon, adesso continua a scapparmi il nome di Amon Darn, ed è per questo che si era invischiato con gli Elfi fin da principio, ci è stato spiegato finalmente tutto quanto, ed è stato spiegato anche perché invece Daken si è defilato da questo progetto e per poi appunto crescere Kalia e farla arrivare dove è arrivata, quindi adesso di nuovo Kalia è di nuovo al centro delle vicende del mondo intero di Theia perché sicuramente tutti i Gialdes fedeli a questa riconquista del loro popolo, del popolo Gialdes, vogliono la testa di Kalia, vogliono sicuramente la testa di Kalia per, in certo senso troveranno il modo di estirpare questo suo potere di Malkuth e redarlo ad Amon Darn. Questa cosa appunto mi piace perché unisce il titolo della testata che è appunto Kalia alle vicende principali del mondo di Theia, perché se no Kalia sarebbe stata un po' troppo defilata nei prossimi numeri. Ci sta che sia stata defilata fino adesso perché appunto sono trascorsi due anni, lei sta imparando, l'abbiamo vista fare per la prima volta da sola un costrutto Gialdes, è uscita un po' una ciofeca ma è stato molto divertente e appunto credo che più avanti sarà sempre più al centro proprio perché è la protagonista e svilupperà dei poteri, ci sarà un altro arco di crescita che è l'arco di crescita dello sviluppo dei suoi poteri. Mi è venuta in mente un'altra cosa scorrendo il fumetto, in questo caso sempre sui disegni, non su dei disegni fatti bene come ci si aspetta appunto da un fumetto fantasy, ma ci sono un paio di scene dove Kalia e il suo mentor, che adesso scusate non mi ricordo il nome, non è neanche tra le persone elencate all'inizio, tra i personaggi elencati all'inizio, ci sono un paio di, come dire, di campi medi in cui si rinuncia, il disegnatore rinuncia a disegnare perfettamente un volto, come si dice, con le fattezze perfette e gli dà un tocco umoristico quindi l'espressione dei personaggi, quando parlano alle spalle del costrutto Gialdest, l'espressione dei personaggi è più importante del volto stesso perché il volto lo conosciamo tutti, non ce ne frega niente di vedere che sia sempre quel volto con diverse espressioni l'espressione è stata accentuata al punto da deformare il volto per veicolare meglio l'emozione è una cosa che si fa molto di più nei manga, negli anime e in Kalia lo trovo perfetto mi è piaciuto un sacco, ecco, credo sia la pagina 19, più o meno, potrei sbagliarmi lo sai è vero che non si conoscono ancora tutte le usanze Gialdest, forse Daccan doveva fare in modo che ci incontrassimo prima, non sei un buon precettore, con la faccia così, con il sopracciglio unico è molto cartunesco e l'ho apprezzato tantissimo in questo numero non ci sono grossi colpi di scena, nel senso che tutto quello che ci avevano già messo in forno nel numero scorso, che ha avuto parecchi effetti wow, qua viene fondamentalmente sciorinato viene dipanata la matassa, viene spiegata al lettore ed è un numero per questo molto molto rilassante quindi io amo questi numeri ogni tanto che ci distendono i nervi e non ci danno altra suspense tra un mese e l'altro che fanno accumulare trame su trame, no, viene un attimino sciolta la tensione poi viene ricreata, poi sciolta, poi ricreata mi piace tantissimo questo ritmo quindi sono molto felice dell'andazzo di questa nuova run fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero 16 io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che sarà su Samuel Stern numero 52 dal titolo Il Paz se avete colto la citazione scrivetelo qua sotto nei commenti arrivederci